Ciao a tutti, non episodio, c'eravamo lasciati lì, questa delicatissima pioggia di sangue, a meno, sembrerebbe sangue, e crediamo di conseguenza anche di essere arrivati alla miniera. Come disse a fine episodio precedente Fanu, fare la cacca a quanto mi pare questa pioggia di ma almeno si vede qualcosa anche senza teleamere. Prendi l'ombrello. Si vede più qualcosa senza, così non c'è bisogno delle pile. Vabbè, ma tanto ce l'abbiamo. Cos'è? una croce alla reverse, devi andare. Comunque, secondo me, devo sentire vedere il coso, ancora lui, un sacco da box, fanno i freni per farci il puzzle. Comunque secondo me siamo arrivati alla miniera. Anche secondo me. No, sei molto simile alla miniera insomma. È bello. guarda lì. Guarda lì. Ma c'è roba. Guarda lì. Oh, io hoi. Oh, io hoi. C'è un po' io ho. C'è noi un so. Vabbè, meglio sì, basta anche lui. Non ci si esce da divano noi. Sono idioti. No, dove si esce da divano? Ce ne frega. Ce ne frega. Ce ne frega, no? No, no. Ce ne frega no. Eh, probabile. Probabile. Ma sei scemo. Ma ma non è successo niente. Ma mi hanno tirato una testa. Ah sì. Ma no. Mi sono ricordi. Mi sono volata me. Perché è una testa di ciccio bello. Hanno volato una testa. Bello. Cioè, dici ora. Oddio. Cioè, ha visto le peggio osse. Ora perché vede uno se era senza testa. Insomma, un po' di sale. No, ce l'hanno tirata. No, lui, Blake, che diceva oddio. Ah. Boh, lo dici ora. Ha visto le peggio osse. La gente è alla reversa, vedi? Ma perché si muovano così tanto? Vai, apri. Dobbiamo scegli uno di lì. Va a duemila questi grancivi. Non è che ti ti prendi, ti fa male. Lo sapevo. Ah, no. Questa è un'altra. Ma chi? Eh, un'altra. Io. Ma come fa lui a sapere? Ma non manano questi giovi. C'è il suo senso. Dobbiamo andarci. Seguiamo. Aspetta. Ma dov'è? Aspetta un po' e... Dove andare a sviluppare? Beh, probabilmente sì. No. Dove siamo? No, un'altra volta nella scuola. Ora ci hanno rotto. Vai, oh, tutte le volte, in ogni episodio, vai a finire nella scuola. No. E c'è anche io solo lì. Arrivederci. Allora si doveva andare per poi. Vediamo come si fa. E eccoci nella zona di computer. Via, 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 via. Fai lavati di volo di volo. Eh sì, certo. Via, via, via. Oh, ma qui ci tirano le seggiole, eh. C'è il computer acceso, lì. Ah. Vai. Bene, 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 bene. You point, eh. Vai, hai sei gaiole. No. Allora, hey, Jessica. Sei lì? Ciao. Funziona. Che strano. Sta scrivendo o va tutto da solo? No, no, lei, di lei. Volta. No, 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 no. Volta. Oh, Dio. Cos'era? Eh, c'era lei impiccata. Allora, affando. Oh, però c'è scritto che osserva da vicino. È la solita cosa. Allora, fermava indietro? Cioè, un altro computer accesso. Meno male, via. Guarda, contiene la conversazione. Ti vedo. E dove? Cos'era quell'altra cosa sullo schermo? Ma lui sta lì che scrive. Ma che resta? Stavo, non so. Sai dove era, boom, va via la vostra, lo schermo, viene una vigna. Posso usarti se non ti salutare? Ah, miliere cattolici depressi e ansiosi. No, guarda, va? Mi danno, te lo giuro, mi danno. Oh, io, 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 io sono pazzi tutti tutti o più te. Oh, via. Ho scioprivi di me ma adesso no, io lo so, a come me stai se vedi di un più te, c'ho, ti è anche morta, ragione di milano e allora si è aperto la porta si è aperto la porta esatto con una volta alza la piscina avrà bene più sangue e se ne avesse uscita e nemici e dove c'è la porta aperta mamma mia noi non siamo soliti ci siamo accorti e appunto se hai visto il Cenobus viene qui subito lei deve andare giù però a me sta qui giù no 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 ci posso io ci posso dire che sia Gesù tu te la parla no 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 si muove si muove ti muove ti muove ciao ciao a tutti ciao ciao vai 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 ma c'è ah ci sigue no apri 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 guarda e vedrà qua oh che schifo è no ma poi da dove di anni ma nell'acqua io erano andato ai giornati vedi basta dire si penso che non vuoi ma entrati entra entra un'acqua.it ma cosa io ho sentito questo comunque c'è la rabbia io posso intendere di volata lì no andiamo verso la luce oddio chi è fermati lì ci vediamo addosso è nudo non li pipi no ma cosa devo fare basta fanno no no via aspetta vai forse ci si è fatta vai a le brutti comunque occhio via perchè l'hanno sfondata questa porta vai di va vai di va ok ma 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 cosa fa chi è ma la smigo la smigo la smigo vai di va vai guarda il cazzo di volata salta salta olio cuore olio cuore via su 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 ora qualcuno viene ci fa uno pulosi no 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 ci si fa ci si fa non si è morito te lo dico io te lo dico io mi fido mi voglio fidare una lanterna c'è le rotte mi sembrava ci fosse una scala no 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 va bene saltiamo l'omini morti vada lì è un gratascello guarda la fuori guarda la fuori vai passa passa ciccio guarda dove va corri ora via ora sono belle passate infatti eccolo lì ciao bello ok io ho intorno no 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 va va vai vai put me i dichi schiacciate lì e stiamo fuori dalla scuola per l'ennesima volta ah guarda c'è una finestra aperta si magari mi va davanti io comunque ma è vero una mezzanetta sa dire eh quindi tu hai scritto una magica, meno male la verità la scuola è tua, la scuola è mia oh finalmente registri a modino va bene la pentolaccia, le prendono le facce e le faccio dalle legnate e ci cascano i chicchi oh addio no brutto 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 sia via 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 brutto brutto non mi è piaciuto proprio per nulla come è più ci guarda lei che mi dà una cosa eh invece a me la serigiosa il sangue Gesù eh guarda un po' era qui il tempo il buio infatti l'ho visto non c'è un te l'ho visto anch'io eccolo guarda no no un'altra cosa c'è la gestica una parola è gestica ne sono sicuro bisogna andare per forza di vanno noi questa è bloccata anzi ancora Gesù Cristo biblioteca ma non anche la biblioteca ci si trova è tutta il buio è tutta il buio è tutta il buio non ti preoccupare ci abbiamo tante file non capito инг ma non ti fa calca addosso vai david no un'altra volta reviv mi vai dato il budello di madre maiala maledetta mattina vede però cosa fa no eccolo 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 guarda guarda vai non esce ne me lo frego ora corri ora corri stavo corriendo un po' troppo avrei messo anche lasciavo correre sul tuo lento lento il tuo mongoloide no comunque credo di aver capito cosa bisogna fare eccolo eccolo attenzione ma vabbè vedi no no che cazzo ci sono sei seccato, sei fatto, sei fatto, sei fatto, se bisogna andare qui si, si cosa? si, 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 va bene va bene va bene va bene va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, comunque non è semplice perché perdi un po' il senso diciamo di un'orientamento oh, intanto per ora, apri, che cazzo non mi riesco a prendere, queste parole ti già sono beh mi danno i fumati, ah, si, mi danno i fumati non puoi portare altri bambi vai, 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 c'è la luce domande come succede nulla oh, tu ti ci so non ti fai il mario eccola, eccola, eccola però, solo me devi andare lì anzi, c'è lei ma segui lei, segui lei mi sono fermato dove cazzo siamo? dove cazzo siamo? oddio siamo morti, doveva fare così si, si, doveva fare così si, si, doveva fare così mamma mia, ragazzi, che dò, eh io non ce la fò, eh, così vai sale bravo, bravo, sei stato bravissimo le bambi le bambi scendiamo altre volte e si sale, scende, scende cos'era quella? sento degli urli oh ma chi è? ma non lo so ti regisci? no ah, sì vai guarda lì che rovi che rovi vai regola ci si vai dobbiamo andare ma chi è? ma cosa ne so ecco chi è è vivo pipì è vivo lui, aspetta solo tu vada che venite dopo ma siamo scemi ma guarda qui ma c'è c'è un'altra di ora questo però è un bug si, si un piccolo bug allora stavano fermi sai ne lo sai vai giù, giù vai è bene è bene comunque siamo stati lenti perché mi hanno avanzato eh, provo io vai provo io vai 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 eccoci lì guarda sono andato mi sono andato sono andato attenzione vai 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 oh un'altra parte nella scuola è lei è lei poi dov'è no siamo un'altra volta un'altra volta nella scuola se io che ti dio no 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 e sto giocando io eh e sto giocando io ma vabbè per un pizzettino sì un pizzettino non sai cosa succede eh si vuole boh non ti vuole non ti vuole io vò a casa sì sì te corri ma cosa succede beh ovviamente i banni e io non ho visto la luce l'ho visto io ho visto non tieni ma no non c'erano ma no scusa ha preso ma t'ha preso ma un c'era allora e t'ha preso e un c'era come come è veloce com'è veloce invece ha trovato il mondo dopo due ore e mezzo a teoria basta molto pare basta nasconderci qui nel bambino no e invece come vedi stiamo un po perdendo le staff e ai ragazzi allora guardate prima lui allora vi si lascio si perché sinceramente non sappiamo cosa dobbiamo fare e poi oltre la durata del video almeno per quanto riguarda la reazione molto eccessiva video solamente che indipendentemente poi da quanto per raccontarli non si è registrato la bellezza di 46 minuti ma è meglio meglio taglia un po meglio stoppa comunque ci lasciamo qui dentro una nuova no nuovo chiamamolo a scuola sogno visione uno di black della scuola e nanti ci vediamo poi nel prossimo episodio che sarei il decimo quindi si arriva in doppia cifra e nanti speriamo comunque di capire al volo e dovremo trovare che cosa c'è una soluzione perché sono un bel casino che cosa c'è una soluzione per la scuola e nanti speriamo che cosa c'è una soluzione ciao